Educazione finanziaria nelle scuole, si chiama così il progetto realizzato ormai da nove anni dalla filiale regionale di Catanzaro della Banca d'Italia, insieme all'ufficio scolastico regionale, volto all'alfabetizzazione e inclusione finanziaria e tutela del consumatore a partire dalle giovani generazioni, per favorire l'assunzione di scelte consapevoli in campo economico e finanziario. Al Museo Marca di Catanzaro, alla presenza delle autorità territoriali, di dirigenti scolastici, docenti e studenti, sono state illustrate le iniziative formative e divulgative che vedono la Banca d'Italia impegnata nel diffondere una sempre maggiore cultura economica. È un progetto che è sempre allargato, sempre di più, al mondo della scuola e quest'anno vogliamo allargarlo al mondo degli adulti, al mondo di quelli che ne hanno forse più bisogno, quindi non solo degli adulti, i quali ovviamente hanno la possibilità forse di dedicare poco tempo all'educazione finanziaria, all'apprendimento di quelle specificità tecniche che possono servire a scegliere meglio e più razionalmente le occasioni finanziarie, ma anche e soprattutto degli adulti più disagiati. Quelli che sono nelle carceri, di quelli che soffrono di disabilità, dei migranti e dei profughi. Nell'occasione sono state svelate alcune caratteristiche della nuova banconota da 50 euro che entrerà in circolazione a partire dal 4 aprile 2017. Rossella Galati per l'AC News 24